Ciao ragazzi, sono i nuovi pubblicani, sono TheFucking Game, sono in campagna del Signore Tecnoplayer Ma perché mi chiama Signore Tecnoplayer? Perché mi piace E siamo sulla seconda parte del challenge, esco il gusto Visto che avete messo un po' di chanti like Sul mio canale E prossimamente sul mio Non mi interessa, bande le cianci, cianci le merde Cominciamo Cianci le merde, tocca a me Che merda? O pannolone del nonno Abbiamo già fatto una prova del pannolone del nonno A me è uscito il melone, non so A lui è l'elene, a merda Prendete A merda E sta roba è tossica, dipendente No, questo qua, no, 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 questo è il pannolone Il pannolone È buono il pannolone Senti il pannolone No, no, è merda però Senti Ah, ma quella là è mia È melone Stronzo È melone Allora tieni un'altra No, niente È bella, l'hai mangiata tu? Oh, melone Bene Ah, benissimo Seconda parte G Giriamo G Quindi putrila Oppure puzzetta selvaggia Non ce l'abbiamo Quindi Cosa ci toccherà? Radoppia Non è interessa Quando non c'è il culo Vomito Non ce l'abbiamo L'abbiamo fatta un'altra volta? Non ce l'abbiamo fatta un'altra volta, non ce l'abbiamo fatta un'altra volta Cos'è? No Ah Ecco G Cos'è? C'è la cerume gelatinosa O? O? Ah è vero io Ciliegia rossa Vabbè Ma la tua è metà, arancione è metà Mi sa che il cerume gelatinoso Che merda Che merda E' il cerume E' il cerume E' il cerume Guarda Io sono la sfida Il prossimo direi l'ultimo Pesce marcio O succo di mela Dai Per adesso noi due è andata abbastanza bene Buonissima Aspetta devo ingoiare sta caramella piccicola Ma succo di mela Succo di pera Ragazzi è buonissima Un meravigliasse Aspetta Succo di pera Mela adesso Così non me l'ho ancora fatto vedere Ah Eccola qua Ah Giustato finchè Insomma Quello per me glielo prendo Succo di pera E come l'altra volta Un'altra volta Uno Oh non riesco a ingoiarmi Allora adesso Succo di pera No non ci sono più Ale Ce ne sono solo tre Chi vuole Chi vuole la mini di pera Io Io e Ale Ci mandiamo il pannolone del nonno Mini Come cazzo si è fatto Bene Io incomincio con quest'altra O è Il succo di arancio Questa qua faceva schifo O è il succo di arancio O è il pannolone del nonno Un'altra volta Ma io ho la mini micro mera La melina mini Eh non è sicuro che è melina Melone buonissima Ok mi deve capitare melone del nonno Ma io la mangio Il melone del nonno Il melone del nonno Il melone del nonno Il pannolone del nonno Il pannolone del nonno Il pannolone del nonno Questo qua sta male Ah Zone tossica Bip Vabbè ragazzi Questa volta Ah no ok ok Il tecron player Si sente molto male La rotellina No Bene ragazzi Questa volta abbiamo fatto la corda Perché ho il cellulare scarico Tecrono Poi pure continua No Perché fare una commissione Vabbè allora ci vediamo Noi ci vediamo Comentate Lasciate un commento E Pondi pollici Polliciate Per altri nuovi video Allora per la prossima Challenge di rischio Agosto Tospario perché Sei pollici in su 10 pollici No ma Lui neanche 10 Ok 5 pollici in su 7 pollici in su Prossimo rischio al gusto 5 pollici 20 pollici in su 7 pollici in su 7 pollici in su Per me 7 I miei sui iscrittori sono 11 Quindi 7 pollici in su 7 pollici in su Like Perché l'altra volta Ve l'abbiamo chiesti 2 o 3 Cazzo 6 pollici in su Quindi io sparo Si veramente Allora ragazzi 5 pollici in su Si va bene Naturalmente se vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Iscrivetevi al canale Da F***ing gamer E dai tecrono player E Giovanni Come da Giovanni E tecrono player E la prossima Uuuh ragazzi L'altro non ho finito il video Come un bel f***ing gamer Non finisce mai il video così Allora Nello scorso video Abbiamo fatto No guarda sto continuando Nello scorso video F***ing veramente Abbiamo fatto circa 8 minuti Di registrazione Questa volta no Perché non c'è Lo scarico E si deve vedere La failcraft Di Wengamer F***ing Che noi abbiamo già visto Vero Ahah E oltre a quello E che noi Andiamo stando Di nuovo Un auditorio Siamo stati Nel stesso punto Di ieri E come ogni volta Se il video vi è piaciuto Dessete un bel like Commentate Iscrivetevi al canale E Sette pollici in su Prossima challenge Rischi al gusto Sì Sti pollici Di merda Da Giovanni E me ancora Non è finito il video Finirà l'improvviso Di sicuro No 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 Ne è più bello Di sicuro Allora Cosa possiamo fare No Allora Allora Gli orari del canale Volevo appoggiarmi Allora Tre volte alla settimana Minecraft Di cui Minecraft G Minecraft Survival Ma anche io da solo Con Minecraft G E con il signor Giovanni Minecraft Survival E con i signori Tecnoplayer Gio mi ti lascio Meno Tre volte alla settimana Sempre Poi giochi random Vedremo Una o due volte La settimana Random Games Comunque ragazzi Ci vediamo E al prossimo video Prossimo video Eh Non so Fammi potremmi pensare Mmm Mmm Basta Fattemi pensare Ah sì ragazzi Il prossimo video Sarà Agario Con Doge 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 Cagnolino Cagnolino Pezzerello Comunque ragazzi Bando di cianci Ci vediamo Ciao ragazzi